Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Il 14 dicembre 2021 Liliana Resinovic scomparve misteriosamente a Trieste. La sua tragica scoperta avvenne tre settimane dopo, scatenando una serie di interrogativi sin dall'inizio delle indagini. La recente decisione di condurre una nuova autopsia su Liliana Resinovic potrebbe rivelarsi il passo cruciale per svelare il mistero dietro la sua morte. Il programma televisivo Quarto Grado ha recentemente divulgato dettagli sulla riesumazione avvenuta il 15 febbraio 2024, portando alla luce nuove prove che potrebbero risultare decisive. Tra queste evidenze, spicca una frattura nasale già in fase di guarigione al momento della prima ispezione, elemento che potrebbe avere implicazioni cruciali nella ricostruzione degli ultimi momenti di vita di Liliana. Lo specialista entomologo Stefano Vanin, insieme ad altri esperti, è stato incaricato di analizzare l'area dell'ex boschetto dell'ospedale psichiatrico, dove il corpo di Liliana è stato scoperto. L'obiettivo è individuare tracce e verificare la compatibilità con l'ecosistema circostante. Inoltre, verranno esaminati i vestiti della donna nella speranza di individuare collegamenti con l'ambiente del ritrovamento o con altri luoghi significativi. Nonostante la complessità delle indagini e le sfide legate alla decomposizione avanzata del corpo, la famiglia di Liliana non ha mai accettato l'ipotesi del suicidio, inizialmente avanzata dagli investigatori. Sebastiano Vicentin, il marito della donna, insieme al fratello e alla nipote di Liliana, hanno insistito per una ripresa delle indagini. Secondo voi chi è il colpevole della morte di Liliana? Lascia un commento sotto al video con la tua opinione.